buongiorno buongiorno eccoci qui buongiorno buongiorno come andiamo bene bene voi dalla ziat state pene che paura il tosti buongiorno c'ho qualcosa da ieri sera sotto il mouse che gratta e io mi voglio uccidere carino mi voglio uccidere lo sparare in testa è un po di sabbia sai quella sabbietta che non si sa da dove venga e ogni volta che sposto il mouse perché non va via fluido come dovrebbe è proprio mio dio il problema è che stai bene tutta mattina perché dovrei star male in che senso è successo qualcosa cosa dovrei sapere sono stato dall'osteopatra che mi ha fatto un malissimo al ginocchio benissimo tironava tutto me lo squizzettava allora grazie a manuels per i 31 mesi a bus the bus per i 56 ad andrew per i 31 e a sissi per i 43 buongiorno buongiorno ci siamo allora stamattina con carim giocheremo a sea of thieves questo gioco nuovo non so se lo conoscete appena appena uscito e ti dico anche un twist vai gli episodi di monkey island escono ogni 20 giorni quindi se vuoi ce li possiamo giocare tutti assieme con i tempi dovuti se hai voglia fra 20 giorni non ci sono no ci dovresti fra 20 10 a no forse sì invece dovresti esserci al pello sì sì è vero vero oh figo e poi 20 giorni dopo ci sono di nuovo esattamente se vuoi però se non se magari oggi ti cagli il ca cos'è to em aspetta che ho perso l'applicazione del di xbox che carino che sembra vabbè niente scusa digressione lo installa no no vai non so cosa hai visto e no su sull'applicazione dell'xbox tra i giochi appena usciti nel game pass c'è to em che è molto carino è un gioco in isometrico dove devi fare le foto e anche figment 2 sembrava bello io infatti oggi faccio viewfinder proposito di foto viewfinder sì e io quello non l'ho preso perché ho iniziato my friendly neighborhood ah com'è mi sembrava resident evil che cosa vuol dire è che esattamente come funziona resident evil quindi ci sono merda aspetta ho avviato time per sbaglio ma scusa ho cliccato softies e avviato time ci sono gli enigmi e la resident evil i salvataggi limitati alla resident evil la valigia che hai in resident evil 4 e il deposito di resident evil quindi tu metti giù un oggetto nella safe room e lo trovi in tutte le safe room veramente non mi viene voglia di giocarlo però è figlio a me è piaciuto tantissimo invece perché è proprio resident evil e non me l'aspettavo perché pensavo che fosse il solito gioco gimmick quindi con la i personaggini sai simpatici e tutto creepy e invece è veramente resident evil level di gameplay mi piace mi piace molto deposito di zapaterone no quello no la schermata di sea of thieves monkey è un po' inquietante è bellissima ecco c'è cosa che ti guarda un po stupito sì un po lungo anche di viso ma a parte c'è la pubblicità della nave che è bruttissima non l'ho comprata no come no è brutta 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 quella nave lì c'è la nave di lecciac sì però non non voglio dare gioco la nave di lecciac ho vestito dalle ciac e questo che non sono che ieri l'ho avviato gioco dai mi vesto a tema però nel negozio ci sono solo i vestiti di lecciac e ma che cazzo me ne frega e mai vestiti guy brush sono una camicia rotta ai pantaloni e vabbè ma voglio essere guy brush io scusa non lecciac che palle ma la mia cinematica in inglese con i sottotitoli in inglese sì va bene la puoi schippare comunque anche perché il trailer posso schipparla ok ok sì ma perché ma scusa tutti gli aggiornamenti di monkey allen sono in inglese ma tutto il menu in italiano no 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 ma in italia sarà italiano anche tutto lì solamente forse perché hanno aggiunto ieri sai può essere per quello ti invito il mio personaggio non lo vedevo da una vita io tobi fake anche quello non vedevo da una vita io tra l'altro io tobi fake è subito sotto real nonna papera che se devo prendere il menu? ah windows g grazie a egg thomas per la sub e elenia per i sei mesi ah c'è un problema perché windows g non mi funziona il tasto di windows non mi apre sì allora dall'applicazione xbox dovresti vedere le notifiche eccole sì che bello la musica eccomi eccoci faccio la storia su instagram che non l'ho fatta tutto di corsa tutto di corsa e niente ha cambiato scena volevo fare una foto del mio personaggio che palle buon lavoro ricky quant'è che dura comunque riusci ce la caviamo immagino in tre ore spero vogliono una di viaggio ma no non è vero non è vero due orette se non ti blocchi allora ecco qua siamo in live su sea of thieves ecco ho fatto fatica a girarsi la signorina ma va bene ecco qua ci sei tu sto caricando ancora oh mamma mia ok se giri troppo velocemente il mouse è un po' un problema come? eh sì aspetta che allora a questo punto vado a cambiare il nome della nave che non il nome il portanome della nave solchiamo i mari con tutti i giocatori mi dice grazie con tutti tutti eh tutti i giocatori tutti tutti sì dove è che è qua no eccolo qui che l'ho comprato giusto ieri ah cazzo ma ne avevo sbloccati anche di nuovi ma che fighi morta della bella morta della bella no non la salvo bella 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 sto prendendo tutto dai barilli eh ma non serve devi dire la quest voglio i cosi voglio i cosi esplosivi allora certo che le hanno aggiunte un po' così le quest questa è quella dei pirati dei caraibi ok e di fianco quella di Mogliar ah proprio le accumulano sì oh guarda capsized carters è scritto per terra ah ok stavo guardando Guybrush qua ma vota per la storia scusa ma Kate non è la moglie che paura Jacken grazie per i sei mesi e grazie a Mick per i 22 non è la moglie lei è lei nella moglie non è uguale lei ma scusa è uguale è uguale ah ecco lì eccola sì ah per venire qui è l'una di mille scusa ma è lei non è uguale a lei più o meno scusa ma scusa ma sì è uguale a lei quindi ho iniziato a fare inquire in la Sea of the Damned e ho trovato me sta qui suonare in circoli in mia olde glassbottomed boat qualcosa che sembrava che è uguale Una memoria di tu che è stata realizzata dalla Sia del Dammato. Nell'inizio, persone e posti da molto tempo possono tornare a tornare a te, mingendo con tutte le sperimenti e i sogni nel tuo cuore. Spero che Guybrush è diventato in memoria di sua propria. Memoria di un sanctuary distante pirata, chiamato come Maynay Island. Grazie a Gillette per i 100 bits. Grazie, grazie a Scass per la sub. Secondo me ce la facciamo. Ok. Che fa? Cos'è questo gesto? Ha fatto quella a sinistra, a sinistra. Ah, è lo stesso di Pirati dei Caraibi. Ok, sempre lo stesso buco ci si infila. Ok. Ma quindi è la mappa di Sea of Thieves che si chiama Sea of Thieves? Eh, sì. Ok. Ma l'avevano già detto diverse volte anche sui Pirati, forse non te lo ricordi. Non l'ho giocato io, Pirati dei Caraibi. Come? Non l'abbiamo giocato a Sea of Thieves, scusa? No. Scusa, non l'abbiamo giocato io e te i Thermos? No. Sei sicuro? Abbastanza. Adesso vediamo di la cima. A memoria l'amico. Io mi ricordo di Sea. Forse una. Guarda, premi tab. Fai il diario del pirata. Sì. Reputazione, se non sbaglio. Vediamo dov'è che... Da diario del pirata poi c'è reputazione. No, non è lì, scusami. Diario della nave? No. No. Missioni, avventure. No, storie assurde. Eh, storie assurde non me lo fa cliccare, però. E missioni. E neanche a me. Traguardi... Oh, vabbè. A me pareva di averlo giocato con Karim. Mi ricordo. Ma vedi, l'ho rivista recentemente. I pirati li hai fatti solo con i Thermos. Solo con i Thermos? Eh, infatti mi ricordavo di non aver fatto i pirati dei Caraimi. Ma neanche la prima? Io proprio non mi ricordo. Possibile forse una. Forse proprio la prima. Vabbè. Grazie a GiaGia per i 28 mesi. Ti ho sentito che sei venuto in acqua. Sono caduto perché mi sono dimenticato che si prema. A Yenfer per i 33 mesi. Tiri giù le vele? Sì. Thank yous. Guarda, due ore per arrivare. Siamo qui. È verissimo. Riputazione di pirata storia assurda. Eh, non me lo faceva cliccare. Quindi è per quello. Comunque Kate è identica a Elaine, eh. Entrambe con i capelli rossi lunghi. Scusate, eh. Eh, non me lo fa aprire la riputazione storia assurda. Da quando è che ci si può sedere? Da... Eh, da un annetto quasi. Ah. Puoi prenderti anche una seggiole e portartela in giro. Volentieri. Scassati, sei stupato solo per quello? Adesso ti danno il link. Cosa vuol dire sostituisci death grip? Scusami, dove la stai vedendo questa cosa? C'è un barile con una mano... Guarda, qua. Ah, che puoi sostituire la... Il... L'ornamento. Ah, ah. Si vedi che ho messo tutte le... L'ho messo io queste cose qua. Ah, che figo adesso che si può modificare così. No, siamo entrati! No, siamo sotto! Volevo vedere... No! Eh, vieni su, vieni su. Ah. Beh. Non... Ah, è Guybrush che scrive. Quindi è dopo il 2 questo. Ma è un mix, l'avevano detto. Ah, si sono sposati, sì. Ma alla fine del primo si sposavano. Ah, no, tra il 3 e il 4, eh. Ma... Non so, non so. Mi piace vedere le stai. Grazie a tutti. È stato un bel momento, figlio. Ma sono partito via! Sì. Oh no, ero seduto, sono sparito. Dovrò mangiare anche dei pancakes proteici mentre siamo qui. Ho mangiato la mela. Ma ho capito, Gabriel, che avrei dovuto rigiocarli, però col cazzo che mi rigioco Monkey Island... Non ha un gameplay così accattivante, secondo me. Eh, infatti. Cioè, purtroppo rigiocarsi in un'avventura grafica con Monkey Island la trovo un po' inutile. Perché mentre lo rigiochi ti ricordi sì le cose che hai fatto di storia e quant'altro. Però gli enigmi sono sempre quelli che non... Neanche remade. No. Ma non ho detto che è brutto. Giochi in amata con gli uti per i veloci. Perché? Sì, con la guida forse... Eh, ma perché dovrei farlo? Eh, per i personaggi, per l'ambientazione, che anch'io mi ricordo niente. Ok, ma... È bello, eh, per carità. Però è un'esperienza che ho già fatto, gioco altro a quel punto. Ma no, non è per l'esperienza, però solo per... Cioè, a questo punto magari un video che ti riassuma. Esatto, esatto. Che bello, qualche sto arrivando a mochiare con la musica. Eh sì. Mele. Mele. Eh, Mirian, questo, sì, giusto, non c'è la scimmia. Guarda che il sistema deve elevare, va? Grazie, Barbascia. Mele, TM, Island. Monkey, non è Isaac. Hai ragione, Colt. È vero, è un'affermazione verissima la tua. Paragonare Monkey e Skyrim non si può leggere. Oddio, chi cazzo l'ha fatto? No, perché ha scritto... Per te, cioè, non lo rigiochi perché non è un'esperienza da rigiocare. Qualcuno ha scritto, però, Skyrim, sì. Ma cazzo, sì. Dove andiamo andare sulla destra, secondo te, eh? Ma tirami sulla vele? Sì. Ragazzi, Skyrim offre un sacco di sfaccettature, un sacco di roba che puoi fare, che ancora oggi non ho mai fatto prima. Ci arriviamo? Monkey Island... Sì. Monkey Island è la stessa roba. Cioè, in che modo una nuova run di Monkey Island mi dà nuove esperienze rispetto a uno Skyrim? Aspetta che giro. Io ho tante di quelle run che ho fatto tutto. Vabbè, ma... Cazzi, tu hai fatto tutto e vuoi rifatti l'esperienza. Cioè, per me Skyrim dà comunque anche un ambiente diverso. Non è una roba che potrei mai paragonare, Monkey... Non è tirato su la vele? È tutto, scemo! Non l'ho tirata? No, hai visto? Era ancora lì. Ecco qua. Cosa c'era? Un pezzettino? Eh sì. Ma guarda che c'è il coso! L'uccello... L'uccello che mangia con la trave. Qui. Eh sì, era tutto un enigma delle balle dove c'è il cuoco qua, no? Non c'è il cuoco. Esattamente. Qui dentro ci sono i tre pirati. Mannaggia, se non ricordo. Siamo entrati dalla parte sbagliata, quindi. Dalla parte sbagliata, al dietro. Non è da qui che parte. Vabbè, entriamo al baretto. Oh, che bello! Grazie, caldo. Sea of Thieves è un'esperienza magica perché mi sembra di andare a Disneyland ogni volta. Benissimo, perché questa è l'attrazione di Monkey Island. Esattamente. Eccolo il cuoco. Hello! Non parliamo con i pirati? Vediamo? Ah, non si apre qua. Sto bevendo il grog di Monkey Island. Tu non hai idea di che cosa sto vedendo io. No. Vediamo se lo fa uguale a me. Vai. Lo fa giusto? No, sta tremando il braccio. Eh, sì. Il cuoco non lascia che i clienti mettano le mani sulla sua cucina. Non è vero, l'ho rubato prima. Sono ubriaco. Anch'io. Eh, Ricky, sono d'accordo parzialmente perché è un film, te lo riguardi e hai un'esperienza che è la stessa cosa. Il gameplay è una rottura di cazzo. Ma, allora, Gabriel, adesso però non mi dovete fare incazzare per fare i puntigliosi. Il gameplay di Monkey Island è una rottura di coglioni, se l'hai già giocato, va bene? Se mi piace, è più che altro rigiocare le avventure grafiche. Eh, che quale, l'ho già giocato, bene. Poi, riguardarsi un film, una serie o un'altra cosa? Ho gioco un po' alto rispetto a questo. Poi, se vi piace, va bene, però, riguardarsi un film, una serie tv o quant'altro, è molto più fruibile rispetto... ...a rigiocare in un videogioco. Nello specifico, un'avventura grafica. No, ho capito per voi, però mi state rompendo le palle e io devo rispondere a modo. Comunque, parliamo con loro... Dove sei finito? Sì, scusa, sto guardando un giro. Sì, sì, vai. What do you want? Sono le stesse domande? Eh, sì, mi sembra di sì. Ma non c'è un personaggio principale? No, aspetta. A proposito delle leggende di Monchi Island, vediamo. Ah, e Guybrush è la leggenda di Monchi Island. Qui dobbiamo andare a parlare con Guybrush. Credo di sì, anche se ha una taglia sulla sua testa. Ah, dobbiamo bussare la sua porta? Ah no, non puoi semplicemente bussare la sua porta e sfidarlo magari di sputti. Mi ha detto, in città c'è uno che potrebbe portarti a Guybrush ma ti costerà caro. Mi sa che sta... Credo di aver mezzo sfondato il gioco prima. Ok. Se ho sbaglio. Perché vedi che ha degli enigmi un po' alla Monchi Island. C'è qui Spiffy il cane che ha l'osso e tu gli devi dare un'altra roba per prendere l'osso. E in cucina c'è un cosciotto di pollo che però ti dice il cuoco non lascia che i climi... Esatto. Però prima io sono entrato in cucina e ho preso il grog. E adesso non me lo fa più prendere. Eh no, perché devi finire il tuo, credo. No, no, mi dice il cuoco non lascia che qualcuno tocchi la cucina. Quindi... Ah, e prima avevo anche selezionato il cosciotto ma non l'ho preso perché... Vediamo. Volevo fare casino. Ah, è vero. E il grog era qui. E per sbagliare... Cioè, prima me l'ha fatto selezionare ma non l'ho preso perché ho detto magari non devo. Beh, parliamo col cuoco allora. Grazie a Boris per 18 mesi. Vabbè, Ricky, però devi stare anche un attimino tranquillo, eh. Perché ho detto due cazzate e sei partito subito in quarta a fare il Critic College. Io non so che cosa avete stamattina. Apprezzo il fatto che siete dei fan di Monkey Island, però... Cazzo, eh. Dai. Sono in cerca di un lavoro. Ma dobbiamo andare a prendere un uniforme al negozio. Sì, sembrerebbe. Ok. Quindi non ha waypoint. Qui tu leggi e vai a farle le cose. Esattamente come Monkey Island. Sì. E non era così con il Sea of Thieves. E scusami dei pirati. Non era così? No. Ok. Quindi è un po' più aperto questo. È il personaggio principale che diceva vai a fare quello e lo facevi. Così è finito di mangiare, eh. Perché dopo... Pezzi da otto miei? Oh no. Quattro scoperti. Quattro pezzi da otto scoperti. C'è un altro. A me non dice niente invece. Un pezzo da otto raccolto dal gatto. Ne, non ho l'HVD. Che palle questo bug. Vabbè, quindi si accomunano le cose che raccogliamo. Molto bene. Oh, qui cosa c'è? Ah, l'hai già aperto tu. Ah, qua ci sono delle cose da comprare. Però diceva il pirata che solo con i pezzi da otto puoi comprare roba. Eh sì, infatti 200 pezzi da otto. Madonna, ma sono tantissimi. È 60. Credo che le sono riservate e non in vendita. Oh, che figo. Ah, non sono in vendita. È colpa a me se queste sono più delle leggende di Monkey Island. Allora, lui ci dà un biglietto se gli portiamo il carico mancante. Ok. Bella, andiamo con ordine. Andiamo a trovare il negozio. Perché qua ci sono delle guardie dei negozi. Però non so. Ah, loro? Sono questi fantasmi. Questo non è il negozio del Voodoo? Questo qua dove sei parlato tu? Eh, credo che sì. E qua c'è l'altro, quello dei naviganti. Eh, di mappe. Eh sì, è la mojo. Permanently closed for business. Permanently closed for business. Ok, niente. Ok. Che t'ha detto l'altro? Mi ha detto che anche questo negozio è chiuso tranne per le guardie e lui non vede un uniforme da guardia. Quindi possiamo trovare uniformi. Yes. Di vario tipo. Ok. Sì, è Monkey Island in 3D. Per ora. Veramente, sì. Quindi ma giorno a giorno ho fatto bene a non giocarmi il vecchio. Il trucco dell'abocco. Va bene. Ok, non possiamo andare alla casa del governatore, che ipotizzo sia Guybrush. È perché non abbiamo un invito ufficiale o un documento che lo attesti. No, no, ma credo che adesso ci serva proprio il vestito. Sì, adesso dobbiamo iniziare col vestito per il cuoco. Oh, il negozio è aperto quello del vecchio. Oh. Uniforme da chef. 45 pezzi da 8. Merda. Perché non? Il negoziante, ci clicco e me lo chiude. Ok. A me lo è. E lui non accetta loro. Perfetto. Grazie al draghetto. Sono qui per riterare i miei uniformi. No, vuole i soldi per forza. Sto sentendo delle cose strane dietro di me. Dei cani fuochi d'artificio, sento io. Sì. C'è uno sgabello. E l'interazione è take a posto. Eh, perché quando mettono le novità, purtroppo, sono sempre rotte. Bellissimo. Quanti soldi abbiamo? Lo sappiamo. Lo sai tu? Bella domanda. 100. Premi tab. Cosa sono i teschietti? Sarà quelli? No. Pezzi da 8? No. Quelli sono i soldi veri. Sai che non lo so? Dalla ruota delle missioni. Ok, grazie, ragazzi. Io ne ho 5. Anche io. Eh beh, sì, abbiamo gli stessi. Minchia. Solo 5? Dovevi arrivare a 45. Ce ne mancano solo 40, dai. Qui c'era la porta. C'era la mappa da 200, quindi. C'era la porta. Guarda che c'è il pollo di gomma. Non in vendita, ovviamente. Il pollo. La porta è qua. Grazie, Samar, per i quattro mesi. Children of the Light. È quello di Ubisoft in 2D? Ah, sì, ricordo. Child of Light. Eh, quelle... Sky Children of the Light. Allora no, non ce l'ho presente. Grazie da box. Niente. Vai, andiamo avanti. Oh, un pezzo da 8. Quindi siamo a 6. Una ciotola di cibo per cani vuote. Ecco qua i cani. E i cani. E anche lui. Prendi paio di caramella. Paio di caramella da polvere da sparano. Ah, scusa. Eh, vedi che c'era l'interazione per prenderla. Adesso ti dice non puoi rubare. Eh, però lui mi ha detto... Lui mi ha detto inculati, non prenderlo, effettivamente. Quindi ci stava l'interazione. Ah, ecco, ok. Quindi dobbiamo spostarlo in qualche modo, tipo con i cani. Ma c'è Karim, ci ha seguito? Eh, sì. Ah! E qui? Vai via. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Non è che magari suonando con lui? No. Se ne frega il cazzo. Come lo lascio? Mi sto occupando tre quarti della visuale. Grazie. Oh, soldi! Non puoi rubare. Ok, niente. Eh, vedi anche te te l'ha detto. Sì. Allora, allora, allora. Non è così grande. Quindi ci possiamo arrivare. Ci saranno dei soldi. Però dubito che siano solamente i soldi che dobbiamo... Queste non sono di finte. E sembrava finta da chiusa. Non sembrava una vera... Questa è la chiesa. Eh, sì. Quindi dobbiamo aprire tutte le porte, gatti. Ah, qua un po' di soldi ci sono, sì. Sei che a posto. Sei che a posto. E' idea che... Allora, non so quanto... Un soldino? Non so quanto possa piacere magari a un fan di Sea of Thieves questa cosa qua. Perché è un cambio di rotta importante. Però non è male avere un'avventura grafica in 3D. Sì, in due. Sì, è solo per quello. Perché di base le avventure grafiche funzionano. Proprio perché sono in due clicchi e sei arrivato dove devi arrivare. Doverti muovere avanti e indietro diventano tutte delle fetch quest gigantesche. Quindi rischia di diventare una rottura di cazzo. Quindi, bella idea carina. Vediamo. Vediamo come evolve adesso il tutto. Allora, di qua siamo passati. Poi... Sono alla prigione io più avanti. Ed era aperta? Sì, sto parlando con uno. Io parlo con il signore... Ah no, è quello del... Ok, qui ci hai già parlato tu. C'è Stan? No. Perché c'è una luce di cocco, lui? Capitan Coco. Figa. Lo sceliffo ha tutte le chiavi e non vedo da quando sono arrivata. Ok. Però ho detto anche che le serrature sono una merda. Sì, mi sono tutte distrutte. Sì, mi sono tutte distrutte. Ah, ho preso un martello. Da dove? Hai finito di toccare? Perché tocchi? Spacco tutto, cazzo. Non posso. Come? Aspetta. Qualcosa di piccolo... Eh, sto cercando di interagire. C'è un martello. Dove l'hai preso? Dal tavolo. È uno unico? Sì. Cioè, c'è un altro più grosso, ma... Devi farle tu, queste cose. Ma fallo tu. E non so cosa farci. Ti dà qualche informazione. Tu hai il martello. E che ti dice il martello? Niente, ce l'ho in mano. Premi il tasto destro. Tasto destro fa... No, ti ho imprimuto? Grazie. Ecco qua. Prendi lo tu. Ma se la tua eroginita, qualcosa di piccolo potrebbe entrarci. No. E allora il martello a che serve? Scusami. Eh, ma è un... Il gatto è un'avventura grafica, quindi... È dei Monkey Island. Però me lo sta tenendo in mano. È quello... Se per mix sono troppi... È ok, però... No, no. No, dico... Servirà in un'altra parte della mappa, come Monkey Island. Sì, però non me lo posso mettere in tasca. È quella la stronzata, capito? Ah, e niente. Lo devi portare a mano. Va bene. Credo, poi non so, eh. Magari serve un'altra cosa da spingere col martello nel chiavestello per aprire. No, non credo. Parlavo di una cosina piccola. Ma a chi serve un martello qui in città? C'è un chiodo qui da qualche parte? Eh, per quello dicevo, magari c'è un chiodo. No, torno indietro. Di qua è tutto chiuso. Scusi, le serve un martello? No. Hai parlato con i tre sgherri qua, eh? Sì, ma ha detto che posso far ubriacare la gente se gli metto il grog nel bicchiere. Però il grog l'hai preso e l'hai bevuto, quindi non so. Eh, l'ho bevuto, mi sono ubriacato io, ma adesso non posso più prenderlo perché era, credo, un bug il motivo per cui l'ho preso. Ma c'è ancora la bottiglia di grog o è andata? No, no, sì, praticamente adesso mi dice... Cioè, adesso il cuoco si gira, ok? Ok. Quando io arrivo. E prima però non sei girato. Io potevo anche prendere il cosciotto di pollo e rompere il gioco, ma non l'ho fatto perché non pensavo servisse. Ne esce una ogni venti giorni, ragazzi. Ok. Io sto facendo parkour di posta, sono caduto, non è vero. Allora, qui non c'è un cazzo. Ah, aspetta, andiamo da dove parte il gioco, che magari è importante. Da dove parte Monkey Island. Cosa, sì. Però sembra comunque strano perché se uno non ha mai giocato Monkey Island, cosa fa? Dice, andiamo... Soldino. Andiamo all'inizio del gioco, non può farlo. Scala. Ho sbloccato un nonoreficenza. Io regolo largano. Oh no! Serve. Non lo so, ho fatto qualcosa? No, l'hai girato e basta. Ah, si può regolare l'altezza. Allora, aspetta, 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 aspetta. Lo metto in acqua perché diceva che c'era un carico in acqua. Vai giù. Ok. Ah, più a destra, gatto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, madonna, quanto a destra? Preso. Vai, tiro su. Non lo tira su, gatto. Aspetta, vado giù e vado a vedere perché. Forse devi attaccarglielo. No, devo staccare le corde. Ecco. Che carino. Ok. Ho tagliato le corde. Vai. Hai tagliato la corda, bravo. Sì. Scappo con un bottino. Quindi sì, bisogna farlo proprio in ordine, in ordine. Perfetto. Sott'acqua e respiri? No. Solo gaipersi lo può fare. Questo per ricollegarci al discorso di prima. E questo è il motivo per cui non si rigiocano le avventure grafiche. Eh, esatto. Se la fai una volta va bene. Poi è vero che io non mi ricordo un cazzo della trama. Vai. Però rigiocarmi tutta questa cosa qua una seconda volta avrei i coglioni veramente quadrati. Ed è il motivo per cui non ho mai più rigiocato un'avventura grafica. Oh, parla col martello. Bravo. E che? Leggi nota di consegna. Cittadino di milì. E chi? No. E chi sarebbe? Vai, raccogli, va là. Ah, sai chi lo dobbiamo dare? Il mercante. Il mercante. Eh sì, diceva che c'era il carico perduto. Che aveva il carico, sì. Quindi vedi, avevi il martello da una parte per andare all'inizio della mano. È proprio un'avventura grafica. Che è figo. No, aspetta, dov'è che era quel signore? In due idee è più facile perché ti orienti prima. No, sì, è figa l'idea. Ripeto, bello che l'abbiano voluto richiamare in Sea of Thieves. Però rigiocarmi un'avventura grafica sapendo già gli enigmi. Perché poi la trama non me la ricordo, ma gli enigmi sì. Salute. Grazie. Possiamo andare adesso, il biglietto d'oro. Yeee. Le hai preso tu? No. È sparito? Checkpoint, storia assurda, salvato. Nell'inventario delle missioni. Che pare che io non ho la Kaudi. Vabbè. Andiamo. Ma perché non hai la Kaudi? No, ogni tanto Sea of Thieves decide che non me lo deve mettere. Non giocherissimo a chi ha il nuovo in 3D fatto così. Eeeh, no. Allora, ripeto, sto apprezzando l'idea in questo momento. Perché Sea of Thieves? Perché stanno facendo una cheat. Aspetta che diamo il biglietto. Più che altro, un'avventura grafica in 3D, secondo me, è un po' pesante a livello di gameplay. Esattamente per quello. Non andate subito, ci sono altre cose da fare. Che ne so. E' l'unico progresso che abbiamo fatto. Non ti fa andare? Che dice? E mi dice che non ci crede. Hello, puris. Yeah, Sea of Thieves. I got a good stream. Thank you. Thank you, pur. Aspetta che rileggo meglio. Sembra autentico. Strano. Pensavo che ce ne fossimo sbarazzati. Resto solo una cosa da fare. Ti ho prenotato per la prossima sessione disponibile. Torno a parlare con il mio collega dopo che l'orologio avrà battuto la mezzanotte. Ok. E l'orologio non funziona da anni, mi ha detto. Che pa... Quindi dobbiamo fixare l'orologio. Sì. Quale orologio? Quello della torre. Boh. Ok. Non c'è la torre. Non lo so. Non ho idea. Forse questo dove c'è il ponte qua. Aspetta. Sì, eccolo. Comunque le avventure grafiche funzionano appunto perché sono in 2D. Fare avanti e indietro in 3D è bello per questo perché stiamo rigiocando Monkey Island in 3D dentro Sea of Thieves. Ma tu immaginati un gioco... Guarda che fa parkour. Bravissimo. Dove sei finito? Sono qua. Ah, è giusto? Pensavo che fossi finito dietro la mappa. Ah, ok. No? No, no. Sto cercando perché la torre dell'orologio è di qua. E quindi... Ah, è così. Vieni da me. Vieni da me. Diventerebbe un enorme fetch quest. E che rottura di coglioni. Parlare con uno, tornare indietro. Parlare con un altro, tornare indietro con gli oggetti. Io li ho giocati tutti in Monkey Island e ho anche la versione originale del 3, amici belli. No, ma anch'io li ho giocati. Non sto dicendo di non giocarveli. Giocateveli. E rigiocarvi il problema. No, hanno scritto che non ho mai giocato Monkey Island. Bugia. Grazie King of Demons per la sub. Beh, non t'avrei invitato, scusami. Perché... Forse era una domanda. E che non ha messo il punto di domanda. Sto cercando di capire se devo effettivamente fare parkour incredibile o se sono una via. No, secondo me no. Allora, secondo me ci sfugge qualche cosa. Abbiamo il biglietto. Perché non mi sfuggono. Come fai a non capire che l'orologio di mille è quello della torre? Te lo dico subito. Perché siamo nel 2023. E Monkey Island l'ho giocato nel 99. Quindi... Ma esattamente come... Io ho scambiato un personaggio per un altro perché visivamente sono simili. Cioè, se voi rigiocate a macchinetta gli stessi giochi all'infinito. Boh, per voi. Che vi rimangono impressi in mente. Io no. Noi non ci ricordiamo i giochi che abbiamo appena finito. Mist non lo considererei un'avventura grafica alla Monkey Island. Perché Mist vai, fai l'enigma e ti levi dei coglioni. È strutturato leggermente diverso. Grazie Kire per i 100 bits. Io sto facendo un bordello che non hai idea. Tu continua tranquillo. E io in Fandango era in 3D. Sì, 3D però... Non mi ricordo se avesse gli sfondi pre-renderizzati. Quindi quel 3D molto alla Final Fantasy VII. Sì, sì, sì. Non mi ricordo bene, però dovrebbe essere così. Allora, di qua... Ci siamo infilati. Questa è una canzone in South Thieves. Ah, no, è il vecchio qua. Niente, non si può. Ma io non ho dubbi che voi rigiochiate le avventure grafiche più volte. Perché poi quando vi parlo di videogiochi diversi non sapete niente. Di solito è così la cosa. Quindi non ho dubbi nel sapere. 3D è schermate fisse, esatto. Bravo, Gabriel. Però Mist io lo accumulerei più al gioco che giocherà oggi Karim piuttosto che a un Monkey Island. Allora, io sono finito su un tavolo. Bene. Non so se posso essere qui. Perché adesso è un po' un casino. Ascolta un attimo, proviamo a tornare al bar. Secondo me da lì magari qualcuno ci parla dell'orologio rotto a sto punto. Ok. When you want, poor. When you want. Posso parlare? Due mani di ciato? Ah, aspetta, il biglietto mi dice... Ah no, nemmeno in culo, perfetto. If you see something you like, just... Ok. Che dice? Digli bel pappagallo. Oh, madonna. Perfetto. Ok. Torniamo indietro, quindi, no? Sì, sì, sto tornando indietro a conto. Stavo risbirciando in giro se trovavo monete, ma niente. Qua non si apre. Bisogna capire come salire sull'orologio. Eh, secondo me qualcuno ce lo dice. Ti sparo lì in alto? Voglio che ti sparo lì in alto. Comunque, per concludermi, sta bene che siate esperti di un videogioco e che lo amiate tantissimo. Vi adoro per questa cosa qui. Non date per scontato che una persona debba essere al vostro stesso livello di... di o apprezzamento o di conoscenza di un tal videogioco. Perché io l'ho giocato tre anni fa, quasi quattro, e mi ricordo un cazzo. Mi ricordo solo gli enigmi. Io rubo i soldi qua, quindi... Allora, boccali di grog, va dato a questo signore qua. Per ubri a Carlo e rubargli i soldi. È ok. Che dice lui? È tante cose. Come chiede l'antenne. Grazie, Nick, per i 30 mesi. Non sto mancando di rispetto a nessuno, amico mio. C'ho provato, scusami. No. No, qui è tutto legato al fatto che ci serve rubare i soldi. C'è, scusami, il vestito. Che palle! Parla di Loom come nell'originale, Karim. Fa la pubblicità al gioco, sì, sì. Che palle! Sembra della straordinaria avventura fatta da Lucasfilm. Adesso ti chiedo una cosa stupida. Ci si può abbassare in The City of Things? Eh, infatti. Fatto. Ma il cane fa le ciacca? No. Chi è bravo il cane? Vuole... Allora, il cane vuole la scimmia. La scimmia? O non la coscia di pollo? No. Se tu ripari, guarda, le dico. Arvar Forf scimmia. Vuole dire questo perché non voglio che vi blocchiate. Il vestito da cuoco è fondamentale per andare avanti. Ma l'avevamo capito. Eh, sì. Il problema è averlo. Solo che noi abbiamo 29 soldi e ce ne servono molti di più. No, qui non si tocca a niente. Proviamo ad andare a vedere se riusciamo a fottere il vecchio, allora. Al negozio. Apriete la mappa, vi fa vedere i posti dove potete andare. Veramente? E come si apre la mappa? Non dobbiamo comprarla, la mappa. Ah, ma guarda un po'. C'era il libro delle quest. Eh, vedi. La quest. Allora, io tenendo premuto Q. Provavo se no a tenere premuto E e ci dovrebbe essere questo. Ah, missioni. Missioni. Eh, la prima. Ah, ok, ok. Oh, ecco qui. La scimmia giocatto, simpatico souvenir e questo sì. Libro di storia. Mini Island. Ok. C'è le miniature. Faxime e le scimmie imbottito. La storia regionale. Ok. Non farti fregare da grande azienda, incontriamoci all'angolo. E abbiamo anche uniforme a chef, 45 pezzi. Perfetto. Vediamo un po'. La scimmia giocattolo la vende lui. Sì, la vende lui. Però costava una fucilata, se non sbaglio. Eh, sì. Grazie, ragazzi. Non sapevo che ci fosse questa cosa qua. Prigione di strutturazione. Negozio e generi vari. Roba utile potrebbe aiutarci a raggiungere Guybrush. Che è quello di fianco alla prigione. Quello del vecchio. Solo che voleva i soldi, il vecchio. Torre dell'orologio. Ma in mezzo alla via, dice. Ah, serve la chiave. Serve la chiave per entrare. E questa è la torre dell'orologio. Ma quella l'ho vista anche prima. E io non l'avevo vista. Cercavo di arrampicarmi con l'izio sui tetti. Il cittadino mi ha dato questa mappa. Ne ha tante in vendita. Serve la chiave della torre dell'orologio. Però ci servirà il vestito, come ci dicevamo giustamente prima. Ok. E non mi aspetto di entrare nell'ottica di Monkey Island. Incontri i capi dei pirati lì. La sentinella. Ci abbiamo parlato con la sentinella? Eh, no. Infatti, all'inizio bisogna girare a destra. All'inizio della mappa. Che in realtà quanti soldi... Abbiamo 29 soldi, eh. Ce ne mancano ancora un po'. Che poi non so se li dobbiamo prendere andandoli a cercare in giro, sai? Spero che ci sia un modo più facile di tirarli su. Perché se no hai voglia di guardare in ogni angolino. Di là era? Di qua, di qua. Credo. Più o meno. Per essere ci venuto. Sopra. Mazza, che posto accidentato. Ho sbagliato, non è qui. Eh, infatti. Però più o meno nella mappa era... No, guarda, è lì di fronte. Oltre di qua e sulla sinistra. Ah, ok. Sì, lì sopra. Eh, se ci arriviamo, Lino, te lo offro domani. Preferisci la birra? Lino, dammi un crodino. Ah, 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 ah. La mappa è stata un po' semplificata, secondo me. C'è roba qui? No. Eh, feels weird, man. Cosa scrive quello là? Non lo sappiamo, Lino. Basta. Chi è? Ci sei raviato l'obiettivo. Ah. Tu, Lino. Non l'avevo visto. Vabbè, domani gli offro... Gli offro del vino a Lino. Non l'avevo... Eh, non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Sollevitate le sub, perché la gente vuole vedere la vera versione di Together B&B. Ah. Quanto cazzo si stava accuando su? Ma quanto era alto? Ma non è... Perché è sempre Skyrim. Eh, alla fine. La mappa non era così. Pi-pi-ri-pi-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Ci siamo quasi, forse. Adesso troviamo i barbagli già per davvero Ti immagini se... Perché in quello dei pirati dei Caraibi C'era la cheat a Monkey Island E poi hanno giunto Monkey Island Ah no, questo è l'inizio del gioco E qua è l'inizio del gioco, sì Ok, sì, va bene Che bello il fuoco Si è girato, scusa Prendi i soldi No, scusa Scusami Scusami Gli ho rubato i soldi Va bene Quanto è che serviva la roba? 45 Cazzo, ce ne mancano 4 No, come 4 Vabbè Scendiamo allora Eh, scendiamo, sì Diamo un occhio se ci sono monetine sparpagliatine Ma è lì non mi sembra Sono lentissimo, perché? Premi shift No, credo di stare scendendo Dalla parte sbagliata No, vieni di qua Oh C'è una strada che scende Però tutta nello yogurt Sei finito nel nulla Ti ho teletrasportato? Sì, mi ho teletrasportato Ah, ok Che paura Detto, eccolo qua Ho sbloccato il segreto Invece no Karim Silenzio adesso in realtà Ma va bene Vorrei tagliare un po' ma Guarda, lì c'è la corda per il pollo Sicuro Teleferica Eh, le casse che si aprono Le abbiamo aperte Però è un po' Vorrei dire che è un po' Un'idea del cazzo Farmi trovare i soldini Così Si vede la villa Del governatore Di Guybrush È lì, guarda Un po' il castello di Dracula anche Bella Sì, tra l'altro sono la facciata Dietro è piatta Ah Abbiamo 41 Soldi È un nuovo obiettivo Ragazzi Il vino perlino Era una roba a caso Non so cosa Non pensavo di raggiungerlo Al 3004 Gli do un coppino Se volete Coppino perlino Coppino perlino Va bene Piano però Perché non voglio Fargli male Faccio schaff Che sarà tutto sudato Che schifo Lo vloggo no? Lo faccio vedere in live Lì Lino viene Beve vino Un pochino Non credo Vabbè Beve la birra Cosa cambia? Grazie a Barb Per i 30 mesi Veramente tanto Stai zitto Allora Dammi Dammi Mi va forza Ho capito Sto cercando delle case Alcol e violenza Sì Merda e sangue Andiamo di qua Marcellino pane e vino Sì Ok Cosa c'è? Stanno facendo tutte le rime Con lino e vino E quindi Ne ho pensato di Ah guarda che ho trovato un'altra Attenzione Non c'era niente Neanche da me No Neanche da me Ne ho aperta un altro Che palle Ah c'è l'altro Aspetta c'è l'altro puntile Dove non siamo stati Lì a fianco Ah quello dove abbiamo parcheggiato Ecco qua Guarda come ne trovo E ti risolvo il gioco Era vuota Era vuota Mi è piaciuto però Oh guarda guarda come lo risolvo io il gioco Vuotissima Sì ma scusami Attenzione Incrocia le dita che siano qua Dai Gatto Ne ho trovato una E vabbè Ne abbiamo due in più Meglio Questo però è un metodo Veramente del cazzo Mi dispiace ma Farmi trovare i soldi In questo modo qua È scemo Whenever you want Ah sì dal mercante Dove andare Dal mercante sì Non me lo ricordo Dove è? Di qua di qua Di qua dritto Shop Ahoy there Ahoy there Allora 45 pezzi d'oro Vai Sì Secondo te ce lo fa indossare davvero? Sì Ah acquista scusa Ho premuto R per esaminarla Ecco qua Devi cambiarti qua probabilmente Oh Basti tu secondo te? Non credo Ok Come sto? Dov'è? L'ultimo a basso a destra Cioè Allora Del Del Cosa iniziale Ah eccolo qua Sì Ce l'ho? Sì Io Anche tu Sì sì Hai delle spalle importanti Complimenti Faccio nuoto Siamo noi che dobbiamo imparare tipo russo Io un pochino Però Lei guarda che è veramente brava in italiano Prendiamo tutto quindi Sì allora prendi il cosciotto Me lo tieni in mano Karim No E devi darlo al cane No non è vero La scimmia vuole il cane Fiore dei barbuncini piragna E quello lo devi dare ai cani da mangiare? Anche secondo me quelli nani Vado Ingrediente necessario per completare lo stufato Cosa ci va? Aspetta Ricettario Sai quel serciter che era un piatto intriso di potere di Mojo? Sì Come ingrediente ricco e sostanzioso usa un taglio di carne tenero Ok Poi No il fiore vieni qua vieni qua Arrivo Devi macinarlo però Cipolla a cubetti ne basterà una Per un sapore intenso e pungente Una ringa rossa appena pescata Senza assolutamente nessun motivo Porro affettato Tritato molto fine Ci serve un coltello però Dove l'ha trito questa? E qua c'è una managlia no? La managlia non triti Beh Sminuzzi Sminuzzi sì Un fiore di barbuncini piragna Si ma ho letto Mi chiudi questa Ok E non so dove metterlo gatto Ah no guarda Vedi Sto incubettando la cipolla Ok Prendo la cipolla a cubetti e la metto qui Guarda che qui c'era la porta per aprire Qua per la ringa immagino Però adesso la ringa Appena pescata No puoi usare la canna da pesca Ma tu devi avere l'HUD Se no non puoi andare avanti gatto C'è che dice puoi usare la canna da pesca Per pescare Dove sei andato? Vieni su! E come me che ho fatto il giro Ciao Caduto Che palle però senza HUD Fixa Provo a vedere se si può mettere e ritogliere Segnala giocatore Ti segnalo adesso HUD Attiva i menu radiali Piavo Laris Cosa sono le interazioni fissi? Boh E non so Io ho sti fiori in mano gatto vieni Vanno tritati Non è vero non me lo fa fare Forse i cani te li ho tritano Barboncini piragliano I cani? Dici? Boh C'è una mannaia lì L'ho messo nel Diretto? Sì Vabbè Ok Eh disattiva attiva Però non so cosa C'è la pentola Però diceva tritato Diceva È che non so cosa mettere e togliere Riguardo con i nomi Stagioni Traguardi Disabita e notifiche di traguardi pirata Cos'altro voleva? Oltre il porro Allora Taglio di carne tenero Un fiore di barboncini Cipolla a cubetti Una ringa rossa Porro affettato E zuccherini alla birra di radice Dove sono? Non lo so Devi affettare il porro però Il porro l'ho già fatto Ok Manca la carne Che è qui E io la metto qua No il ripristino mi fotte tutto Non voglio C'è il nemico Allora ho messo la carne Tutta intera Perché? Vabbè era magra Pesca la ringa Difensiva Sì Il finale Dov'è che è qua? Ti faccio luce Grazie Ti piace perché è una pesca Guarda che figa Vuoi vedere? Oh bella così Lo sai che sto giocando A Genshin Impact Da capo E non mi sto rompendo i coglioni Anzi Da quando? Ieri L'altro ieri Ok A ringa rossa Ecco qua Secondo me Arrivi a martedì Ok Beh Puoi escere Ah A proposito Remnant Sono uscite le recensioni Sono tutte uber positive Gliel'ho detto ieri Che mi hai mandato Il messaggio Ma io sono in E anche nei giochi più venduti Nella lista di giochi più venduti Di Steam in arrivo Cioè no Io sono preso benissimo È molto bene Perché il primo Non era andato Oh sì Ma era E diciamo che ha avuto Uno slow Sai che non so i pesci È stato uno slow burner Incredibile Il primo Nel senso che è uscito La gente non se l'è cagato Proprio tantissimo E poi piano piano Ha avuto il suo Pubblico Si c'è Cold Che sta giocando l'uno Ed è preso benissimo Mamma Cold Io non sono Io mi sono anche fatto La lore run Con tutta la trama Ho letto tutto Ovviamente non mi ricordo più niente Però Quello è un problema mio Allora mancano Gli zuccherini Gli zuccherini Che cosa sarà mai Aspetta Te li leggo meglio Speciali zuccherini Alla birra di radice Forse con i grog Esatto Provo a ubriacare la gente Intanto Dovrei Versa il grog Extrapotente Ecco qua Per Baldur's Gate Probabile Dorian Remnant Ha una creazione Il personaggio Che Scegli due barbe E scegli due capelli Quindi Non Contati solo Li facciamo ubriacare Carino E rubiamo i soldi Vai 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 Sono pochi i soldi Non prendi i soldi Non me li prende Ruba la chiave Della torre dell'orologio Ma veramente Ok Ecco a cosa serve Aspetta aspetta La versiamo un po' Tutti Sta roba qua Ok Riesce a prendere i soldi Forse di più allora Provo anch'io È ancora sveglio lui È un po' È un po' Rincoglionito Lo vedo Aspetta Sto stordendo Quello con la chiave No l'ho già fatto questo Ah no Non l'hai presa la chiave? Eh no Perché non me la fa prendere Aspetta che Magari serve A farlo due o tre volte Versa il grog È venuto L'ho presa Buono 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 Ah return La stai giocando Cold Scusami Ah Però l'ha giocato Ha detto che Ah sono contento Che la gente inizia Ad apprezzare Remnant È proprio fico E io lo so Ero il primo Ad aver detto Che non ero un granché La prima volta Che l'ho giocato Eh Ho la chiave in mano Gatto Valla a mettere Intanto Vado a mettere Intanto li faccio ubriacare Qua Sì Anche il Allora Anche il due Procedurale Da quello che hanno detto Ma hanno fixato Tutti i problemi Che c'erano Cioè non tutti i problemi Diciamo tutte le cose Poco bilanciate Tra cui La randomicità Degli eventi Che Credo che in un aranto Adesso possa fare tutto E Prima Le statistiche Le abilità Erano legate All'armatura E la gente Non voleva indossare Un'armatura Per avere un'abilità specifica Adesso non è più così Quindi ottimo Per fortuna Era un'idea del cazzo Sì Cioè Più che del cazzo Era un po' Una di quelle cose Che ti obbliga A mettere un'armatura Per forza Quindi Io qua faccio Briacare tutti Così facciamo i gran soldi Eh Io Allora Io ho aperto la torre Ma la chiave Ce l'ho ancora in mano E non voglio lasciarla Perché ho paura Ah sì Eh sì Perché se la lascio Me la lascio per terra Quindi non so Vabbè la lasci lì per terra Volendo Ok Però è aperta la torre Sì sì è aperta Ok Ma la lascio davanti Oh Abbiamo 100 soldi Oh 45 Ne hai trovati tu No Ne hai trovati tu Perché tu hai 45 No Ah no Ne hai trovati Ok Ah scusami Non la caudì Che palle Che palle Sta cosa Ok Adesso Ok Io riempio di nuovo il boccale A questo punto ci manca Due cose Sì Allora dobbiamo andare lì dove sei tu Ok E trovare la cosa zuccherina qua Ingredienti necessari Perché ci manca L'affare zuccherino Spero non l'abbiano tradotto male Perché dice Aspetta che lo ritiro fuori E il grog non glielo posso mettere Ed era il mio primo pensiero Speciali zuccherini Alla birra di radice Preparati per Oh no Preparati per tenere a bada i non morti C'è un cimitero? C'è Dovrebbe essere Vabbè Ah Sai che cosa sono le caramelle? Ah giusto Le caramelle Del violinista E allora dobbiamo dare qualcosa al tizio Dobbiamo dare Sì Allora andiamo sulla torre intanto Vai Le caramelle esatto Bravi Ah sì mi ricordo Blazing grazie per i tre mesi Però non Allora ci sono arrivato da solo per me di leggere Ma non date suggerimenti Perché vorrei arrivarci Dove le mollate la chiave? Qui? Perfetto E là davanti Che buio è Eh sì c'è una roba di luce terribile qua Ok Si va su velocissimi tra l'altro Ok Ah si va ancora più su Che hai fatto? Niente Ah no è l'orologio rotto Quello che sento È l'orologio che ci prova Ok Ma no serve la chiave Che arriva Di cosa? Noo Ecco perché arrivo Che pa... Sei caduto giù? Si Mi sono buttato Stai tranquillo eh Infatti serviva due volte Che è un po' una puttanata Forse perché magari facendo un po' di parkour ci arrivavi lo stesso Ecco qua Eh infatti me l'ha tolta dalle mani Oh guarda c'è un braccio Lo prendo Ho trovato 17 pezzi da 8 Si è sbloccato l'orologio? Dovrebbe Ho tolto questo braccio Che raccolgo Ah devo fare mezzanotte Bellissimo Era mezzanotte l'orario? Sì 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 Ok Arrivo eh Aspetta Eh no Devi andare ancora avanti Sento un rumore però quando Vabbè è un vecchio orologio Non combaciano neanche i cosi lì Gli ingranaggi Vediamo se si ferma da solo Mamma che paura sì Beh Fortissimo nell'occhio Allora io ho un braccio scheletrico Forse lo vuole il violinista? Ho il cane? No il cane vuole la scimmia ancora Esisti Ah scusale scusale E andiamo dal violinista Non sta calmo Dov'è che era? È di qua Gli manca un braccio Oh magari i cani vogliono il braccio Ciò trovata deve Deve avere molta fame E no No Con lui non si può parlare però No serve solo prendere i soldi E la caramella E calmo Quelli ti faranno un buco sulla lingua Dice Io c'ho un braccio Non è che quella caramella serve per far uscire quello di prigione? No Oppure il braccio serve No è troppo grande La caramella è sicuramente I cosi zuccherini dei morti È chiaramente un riferimento a Magari il vecchio vuole Non è che quello è il coso zuccherino dei morti Il braccio Non credo Perché magari è una traduzione un pochino letterale Ma guarda che mi sembra proprio On point eh Con quella roba lì Perché lui ha detto che ti buca la bocca la caramella E non vorrei fosse usata tipo la Come si chiama la Quella roba che Come si chiama Che brucia il metallo Vediamo se lo L'ho parato solo con uno No però dico Non sono le altre cose Io ci provo a portarlo Ma secondo me no eh E qui bisogna fare come monchiare Usa tutto con tutto Oppure questa cosa qua Posso usarla per aprire la prigione Dici? Eh beh sì proviamo Tanto due o tre cose Però dice qualcosa di piccolo Troppo piccolo non è No 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 Vuole la scimmia il cane Prova a metterlo qua nel Bucoso E poi andiamo in prigione Nope Niente Ok No ma quello mi sembra Oh ci siamo persi qualcosa Beh Può essere Qui Qui no Mi pare difficile che un ingrediente sia fuori dalla cucina No guarda Al cento per cento Sono le caramelle Cento per cento Te lo dico io Beh qua tutti gli indizi erano fuori da quello Dove dovevamo usarli Quindi Sì Tranquillamente è possibile Dove era la prigione qui? Dopo Guarda che mi sa che la scimmia la possiamo già prendere gatto eh Che ti dice? Perché mi 117 ne abbiamo La scimmia ne costa 60 Ah Allora prendi la scimmia Qua comunque il braccio non va Ok Allora posalo da qualche parte A questa simpatica scimmia giocattola Ecco qui Oh madonna Santo è un incubo da tenere in mano Vieni che andiamo a darla Anzi tieni Fai tu Qua Eh volevo mettere il braccio Non posso Guarda metto sopra questi barili qua Così non ce lo perdiamo Che bella che è Ma la uso come un boccale Alla tua Non è simpatica Ma sì Ma ci abbiamo messo un po' in granaria Ma adesso lo stiamo capendo Ecco qua E l'osso che cazzo mi serve? Devi unire al braccio Oh non mi sembra Che ti dice? Adesso lo raccolgo e vediamo Eccoci Oh 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 Che si fa? Prendi Murray Il bomba lo fa prendere Dice Lascia stare col teschio Sta lavorando Ah uno è Murray L'altro è il capitano maledetto Quello dell'altro gioco Dei pirati dei Caraibi Quindi capitano maledetto È una costante Ma gatto Gatto I zuccherini sono qua Cos'è che c'è? Sono qua gli zuccherini Ma te sei uno strozzo Ma chi l'ha mai visti? Zuccherini di chinotto Vai Tutta la scatola Via Claris Grazie per i 12 mesi Cos'è uscito? Scusa E che ci serve? Questo è fatto al chinotto Lo prendo E chi lo vuole? Ai cani? Ai cani Bravo Forse l'osso devi dare ai cani? Andiamo entrambi Ok Andiamo No secondo me è quello Secondo me è il tuo Ok Cosa da bere? Sì sì Oh che paura Ho sbagliato strada? No no Sei giusto No era qua Era qua Vai Era questo Bene Loro mangiano Karim stai lontano Magari vuole l'osso lui Molla l'osso No Oh madonna Ah vedi Bellissimo Che figo Ma che tragedia Ma è morto proprio Forse qua serve il braccio Forse qua serve il braccio Dovevo ricostruire? Ah sì Mancano diverse ossa Ah intanto Ecco qua il femore C'è Prendi Le caramelle Ho rubato tutto Le caramelle Perfetto Le devi tenere in mano però Ovviamente le devo tenere in mano Caramella proprio sparo Guarda che servono per far fuggire Quello di prigione Te l'ho detto Hai ragione Avevi ragione Andiamo Di qua Però qualcosa di piccolo Diceva Sarà strano Eh avevi ragionissima Sì ma sono giganti Non ci sta Vabbè Sparagli Devo sparare? Sì Ok Ho mancato Cosa ho fatto? L'hai risciato Eh no No Provare con una pista Oh no Manca qualcosa No Oh Perché l'ho messa L'altra di qua Ma no Forse perché La miccia È vero che vedeva la miccia Ah la miccia Nelle gote Forse possiamo prenderla Era più intuibile Comunque con lo sparo Se posso dire Ah il braccio Aspetta Dov'è che l'ho mollato L'ho mollato Qui Eh sì Sulla scatola No il martello Non serve più L'abbiamo usato Per aprire una scatola Ok Quanti soldi abbiamo Quindi Murray diventerà uno Oppure il pirata Diventa uno che cammina Quanto pare Però gli manca anche un altro braccio Attenzione lui La testa 100-100 Oh lo prendo la miccia Per polvere da sparo Vai Presa Sicuro nella gabbia A fianco alla sua C'è l'osso mancato Perché c'era un po' di roba Può essere Hai ragione Mortadella bella Ha ottenuto la classe Del traguardo 173 In giornate in mare Hai visto Ok Aspetta Prima lui Che ho paura Una sola Te ne ha venduta No due Ok Che per fortuna Ma come funziona Questa cosa qui Così sarà Sì Veramente con la roba Yes Che figo Ok Ah Dave Come è andata a finire poi Dave the Diver Mi sta piacendo moltissimo Ottimo Ovviamente lo riprenderò martedì Hai ragione Qui c'era un braccio Yes Aspetta che c'è Freedom After all these years Che ci dia la noce Che fa la testa Però strano Che ci vada a mar Che ce ne facciamo Non lo so Captain Coco Captain Coco Hooray Now we can do All the things We ever dreamed of Travel the world See the pyramids Open a furniture store Così Not that That's pretty silly But we can start over Build new lives For ourselves Like running a furniture store Oi Enough with the furniture store I didn't spend all that time Locked up Just to collect chairs I want to have an adventure And I want to sell Ness in mahogany tables At affordable prices Hey That stupid You're stupid You know what Fine Stay here And have your stupid furniture store I hope it makes you happy I just I really I thought we were friends Che storia tragica Prendi Oh no Ce l'ha dato veramente Ma è diventato un cocco normale No no Alla faccia Eh sì Secondo me quello ci serve da metterlo al posto di Murray Sai Ok Fammi andare a mettere il braccio Oppure proviamo a metterlo al pupazzo qui Ti immagini Magari Senza testa con questa Vai vedi No No Ok Peccato Uno dice Allo scheletro manca la testa Ah perché dobbiamo metterci Dobbiamo fare Certo certo Lo switch No Di qui Un consiglio prima che perdete un pezzettino Che è un obbligatorio Sì perché a questo punto facciamo tutto adesso Dimmi Wilson Wilson cocco Sì Mare non attaccatelo subito Ok Ok Al cadavere dici Ah perché bisogna combatterlo No no Oh sì l'ho fatto Perché forse va attaccato da altre parti Perché se come nell'altro Attaccare Murray da qualche parte Scusa Ah non attaccarlo in quel senso Non attaccarlo allo scheletro No no Dobbiamo trovare un posto dove metterlo Che non sia quel cadavere lì adesso Perché ti sblocca sicuro roba Ok Dove lo possiamo mettere? Perché altri corpi Perché In quello dei pirati di Caraibi Lo attaccavi in altri corpi Nel negozio forse Vedi se c'è qualche manichino Qualcosa Niente Sto cercando qualche interazione C'è una lista di achievement nel menu Che potreste perdere Altrimenti Non è propriamente da attaccare Ok Forse da portare a parlare a qualcuno Sì ma chi? Forse con i fantasmi Ha detto che bisogna portarlo ovunque Nei luoghi principali E lui ti dice una frase Ah ok Qui dovevo portarlo anche di sopra? Sì è molto probabile Vediamo se c'è nel Nell'achievement E dov'è che è? Storia assurda Me lo fa vedere se me lo sblocca no? Dovrebbe Però non so dove sono Dovrebbe essere Nel diario del pirata no? Mi sto facendo un giro Storia assurda Ah qua Eccolo qui Sì perfetto L'ho trovato Pirata scopparso Attende di essere salvato In mare dei diannati Ah merda Ci sono un sacco di achievement Ottieni accesso alla via del governatore Ok Prendi posto alla scambar Non mi sono seduto lì Sconfiggi i pirati Fantasma col chinotto Cos'è? Spoilerissimo Ascolta tutto ciò che spiffia da dire Qui devo parlare col cane Sette volte Sono nove posti Ne hai fatto uno No Ha già detto parecchie frasi Eh quindi Eh no te lo dico Però Legate alle Ai luoghi Nel senso Tipo sono andato sul pontile Ha detto Qua il capitano affogava alle persone Quindi credo sia È un po' spoiler Ecco qui Non l'ho fatto apposta Sto guardando le cose che devo fare Tipo sedermi qua Credo con posti intendo i posti a sedere No dello schermo No per me sì Ah no sì a te sì Di sederti al bar Cazzo io non posso preparare con spiffi adesso Perso la cigna Per sempre Vabbè È un'ottima idea farti fare questa cosa Dove devi andare in giro Con un oggetto in mano Così non puoi correre Non è male Sì Allora tu stai Andando di sopra Arrivo Eh sì Tra l'altro io Ho un ticchettio costante Nel mio orecchio Perché io ho la gamba di legno Anch'io E quindi siete Tunta 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 All'infinito Esatto Tuck 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 Posto importante intende anche il governatore No perché non puoi andare dal governatore se non No invece sì gatto Perché noi Perché diceva mezzanotte Ah possiamo andare Hai ragione Sì è vero Ok, ha detto una roba Tanto a me mi sa che quelle cose lì Non me le sta proprio dando, sai? Vediamo Però non mi sta dando achievement Semplicemente No, no, perché devi arrivare Per poterlo fare Devi arrivare al coso Ah no, 3 di 9, sì Sei a 3 di 9, carino 3 di 9? Scusi, gli altri dove sono? Eh, io che cazzo del so Sto venendo su Forse in prigione lo devo portare Il suo dimenticato E in chiesa l'hai portato in chiesa? In chiesa no, infatti Sulla torre anche dell'orologio, mi sa Che due coglioni Per me possiamo andare via anche dritti Se non vuoi Se vuoi farli tu lo prendi tu No, no, no Li faccio anche io No, infatti possiamo andare dritti Tanto io mi sono perso il cane Quindi dovrò comunque rigiocarmelo Eh, non lo sapevo Che devo parlare col cane 60 volte Per Che sono comunque Sembrano più fattibili Di quello che Che era invece Quello dei Pirati dei Caraibi Che ho fatto tutti gli achievement Per ottenere La canzone Ok Che è la canzone esclusiva Non questa Non questa Non questa Non questa Non questa No Ma puoi selezionarle Eh, ma mentre camminano Grazie a Fubio E a Reese Flow Grazie mille, belli Questa Ma questa qua Non ce l'ha già? No, questa è la canzone Di Pirati dei Caraibi Ah, ok Quindi lo lascio qua Ah no, dovevo ricoprire Giusto Eh sì Giusto Questa è la canzone Della Della attrazione Della Disney E ce l'hai solo Se raccogli Tutti i libri Tutti i libri Nei Pirati dei Caraibi È stata una rottura Di cazzo infinita Farlo Vai Devi smettere di parlare Ecco qua Grazie Elsa Per 27 mesi A me fa morire Il fatto che Un teschio qualunque Va bene Un braccio qualunque Va bene Lo dobbiamo forzare Noi a mano Lui serviva per forza Quindi per andare Va bene Va bene Va bene Noi siamo vestiti Tra l'altro Dai idraulici Sì ancora Vai Mario Con calma C'è una selezione Per le musiche Da suonare Vai così Shanties Però mi piace casuale Però mi piace casuale Ecco potevano farlo Un po' più spedito Mamma mia Santa Un po' più spedito C'è un po' più spedito Però ripeto Però ripeto Mi dà molto fastidio Il fatto che Per ottenere gli oggetti Abbiamo dovuto raccattare i soldi In giro a cazzo È vero sì Grazie Murray Tanto lo perdi sicuro Centocento C'è anche il libro Che credo tu possa mettere come arredo per la barca Che costa duecento Duecento Ah aspetta un attimo Che c'è una discesa qua Ah cazzo è vero Soldini C'è una scala Sì Ah forse se cadi Probabilmente se cadi C'è la scala Ok ok Vado a vedere dietro la casa No fa ridere ragazzi Però ci ha messo 45 minuti A fare tre Fa ridere i primi tre passi Poi dopo dice sì C'è un cazzo Ma proprio un cazzo dietro Ma mi sono seduto Scala Sì E Guybrush ha iniziato a narrare Come? Sì Ma ti sei seduto dove poi? Qua Ah E sono i ricordi Di come è arrivato qua Perché stava parlando Di Elena E dei barboncini Sì Yeah Visita a domicilio Antonio è tutta una merda però No Facciamo irruzione? Vai Stanno litigando Credo che stia giocando Credo che stia giocando Vedi pupazzi Ah sì Come Scrubs Ok Ok Ci sarà un modo per entrare D'altra parte Ho un terzo busso Ah sì Perchè è completamente fuori di testa No come? No come? No come? Autore dei sottotitoli non sono responsabili di perdita, perdita o perdita durante la presentazione. La legenda inizia a mele, nel giorno di arrivare, i leader di pirata sono immediatamente riconoscendo i miei talenti naturali, e così è stato il governo Marley, che era inizialmente spettato dalla finestra, infatti, c'è un pirata che non aveva riconoscere la mia ovviamente, il pirata di pirata Lechuk, che era anche smitteno con Alain e e spirited her away to the mysterious Monkey Island. Gathering a loyal crew in the finest ship available, I sailed in search of Lechuk's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered Lechuk and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonica sea scourge down. I had to tango with Lechuk again, before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, uh, um... Where finita Elaine? Why can't I remember? And what was with that weird fog anyway? Did I, um, anyway, once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Però... Ok... È durata... giusto. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. We have gifts for... the whole family? Oh, please, please, quietly. My wife is... very, very sleepy. Eh, parlava del pupazzo come sua moglie. Allora, ho rubato 70 monete. Io ho aperto la porta. Oh, non è. Secondo me non c'è. No, non c'è lei. Vai. Oh, madonna. Erano tre sciglie. E un... E un biglietto. Uh. E una chiave. Del forziere del terribile... è questo. Questa qua. Mighty Pirate Chest. Che cazzo è? Ha il chinotto! Auguri! Il segretino, no! È infinito, secondo te, il chinotto? Sai che non lo so? Perché c'è... c'era scritto beer, c'era scritto. Credo sia arrivato le ciak, gatto. Ho trovato altri 85 pezzi. Cazzo, buono. Dobbiamo farli fuori col chinotto per farla ciment. Almeno proviamo a fare questo. fatalmente vomitare che infinito che paura che è successo è arrivato le sac arrivo auguri la ciaaaack no che fa che si fa degli chef agitandola guarda si la lettera? a cazzo avete ragione non l'abbiamo letta la lettera non ce l'ho ma forse me l'hai inclusa lì è che adesso c'ho in mano il chinotto dopo la leggo e la birra di radice per qualche motivo era tradotta chinotto oh no era lui gatto sto seguendo ma lui è buono eh eh no si è trasformato le ciaak secondo me era lui ah era le ciaak fin dall'inizio era esatto ok intendevi quello ok non siamo a mili island carimimi no questo posto sembra il mili island pare ci sia stato arriva no è stato distorto è la lettera di elaine che che guy brush è rincoglionito e lei non sa come aiutarlo ok ed è scappata a cercare soluzione ok perché ne hanno chiuso il negozio qua di voodoo che figo che esplodono col chinotto c'è del gameplay nuovo gatto finalmente sono emozionato pirati pop up ah i pirati pop up lo sono terratore achievement eh sì eh me no me l'avrà dato non lo saprai mai io sto morendo comunque comunque diceva che questa è root beer esatto la birra di radici diceva Gabriel ma la root beer è una cosa che bevono proprio gli americani in generale eh sì però era quella che c'era anche in coso no? non so perché l'hanno tradotto in chinotto l'hanno tradotto in chinotto l'hanno tradotto in chinotto anche nel gioco originale? sa che non lo so e spawner col chinotto? boh l'importante che lo faccia aaaah non ho più vita è sparito il negoziante quello che ha fatto parte dei via verdi sono spariti tutti ci abbiamo fatta? abbiamo sentito la musica è tradotto il chinotto perché root beer è un soft drink simile alla coca cola eh vabbè però non è il chinotto è che da noi eh però da noi non c'è la root beer in teoria eh ho capito io il bar è chiuso dobbiamo andare via? sì sì mi sa di sì dobbiamo seguirle Chuck no? a Monkey Island dobbiamo andare ah però dobbiamo portarci dietro la cosa a che? la root beer beh se vuoi ho lasciato quelle bottiglie speciali per aiutarti no niente dice questo trovo un modo per parlare con Karina la casa internazionale di Mojo ah no aspetta allora intanto mi prendo da mangiare e credo che dobbiamo entrare nel nel negozio nel negozio voodoo ok sì andiamo perché c'è la guardia che non ci faceva passare ti ricordi? dobbiamo portarci la birra io me la porto per sicurezza porca miseria arrivo se hai scritto birra di radice in italiano ve l'ho capito poco ah ve l'ho usato Google oggi più che allora ma infatti il problema è che la root beer è una cosa cioè se tu continui a non farmela conoscere la root beer per forza un italiano non sa cos'è se continui a tradurla in un altro modo per forza che dici chinotto però la bottiglia è mezza vuoto o sbaglio? ho visto e stavo per dirti la stessa cosa oh no quindi si consuma ok allora il negozio di mappamondi? no ah 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 guarda è aperto non spercare, non spercare il chinotto l'hai usato tu tecco a posto io ah posiziono una bottiglia di chinotto vado faccio eh vai vai anch'io eh vai tutti e due servono? no fortuna che ce la siamo portata eh eh sì l'hanno ingiovanita o sbaglio la signora? il potere di Mojo può ritornare alla fine abbiamo molto da discutere ma sento che potresti avere un business non finito qui a Mele Island quando sei pronti per partire ritorni a me qui io sarò aspettare cos'è che dobbiamo abbiamo finito quindi ah ecco sono tornati tutti ah ok però non possiamo entrare qua nel negozio delle mappe abbiamo 157 monete ok non abbastanza per poterci comprare il libro della storia mi stavi spruzzando mi hai detto che hai altre cose da fare che cazzo dobbiamo fare? e io questo al bar? o alla casa di del governatore? se sei qui per portare youtube trovo un modo per parlare con Corina alla casa internazionale di Mojo ah nella villa ce ne sono altri soldi? andiamo eh io ho preso 80 e 70 dalla villa poi non so se perché la villa è enorme è enorme ma ci sono due state ah vai 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 faccio io le monete qua allora grazie perché le porte qua non si aprono tutte arrivo guybrush dorme andiamo vediamo non mi sembra perché ah aspetta forse qua no no c'è il nemico cosa ho fatto? cosa ho premuto? guybrush nella villa è il governatore di quest'isola che non è Millie Island comunque vi volevo dire che sto giocando a Genshin Impact da capo con un quarto account ovviamente perché non c'è altro modo per giocare da capo e mi sta o sto leggendo anche tutti i libri è una roba che non ho fatto manco in Skyrim sto leggendo i libri tutta la trama dei personaggi tutto quello che mi capita sotto mano dove si trovano i libri di Genshin? minchia c'è la libreria alla casa non mi ricordo come si chiama all'inizio una delle missioni principali ti porta nella casa e lì c'è una libreria ed è l'unica rottura di cazzo dei dei libri di Genshin è che sono divisi in volumi quindi tu magari puoi trovare il terzo volume di un libro che ha quattro volumi e tu trovi il numero tre e quindi devi aspettare perché altrimenti non capisci niente sono anche abbastanza lunghetti alcuni quindi ho visto le recensioni di Remnant ne parliamo oggi in live voglio piangere perché non ho mai visto così tanto amore per un gioco che è partito male il primo è partito male come vendita e come responso e poi però tutte le persone hanno cambiato opinione compreso me probabilmente Remnant è uscito qualche anno in anticipo rispetto al mercato videoludico Remnant era uscito e la gente ha detto ok è un Dark Souls con le pistole adesso che la gente lo ha giocato o rigiocato stanno tutti dicendo è uno dei migliori soulslike che c'è probabilmente quando era uscito o non l'abbiamo capito oppure semplicemente era presto per un gioco come Remnant e vado in live alle 14 da 60 anni più o meno ha suonato nel momento in cui l'ale è uscita di casa incredibile che sfiga mi è arrivato Pikmin ah ok se non fosse il tutorial che dura 25 minuti me lo giocherei più spesso ma tu non devi fare il tutorial per rigiocarti Remnant eh c'è proprio una modalità Dio mio uno sparatutto ok scusa mi hai preso altri denari? 157 no non c'erano altri denari 157 non c'erano altri denari almeno non che io abbia visto neanche dietro la casa o sotto dove c'è una spiaggia con una barca eh do un'occhiatina veloce ci sono due sacchetti al piano di sopra li ho trovati e uno al piano di sotto vediamo ah forse è qua dove ci sono le scuole eccolo trovato però non ci siamo ancora ne mancano 8 8 pezzi da 8 ci servono carino nooo è The One di Pikmin oggi dovrebbe essere il The One di Pikmin oggi intanto io sto aspettando un pacco sempre da Nintendo grazie mille Kinga che ho ordinato il Pokémon Plus il Pokémon Go Plus che dovrebbe fare il monitoraggio del sonno che volevo farlo lo sto facendo un video e il Day One è oggi allora il pacco ha consegna in corso consegnata in corso vabbè che traduzione è ok perfetto perché Nintendo mi diceva eh guarda che te lo diamo lunedì come lunedì minchia ieri era a Torino stamattina era qui e ho detto cazzo lunedì mi tirava il culo invece è consegnata in corso meno male è scaricato Pokémon sui ci sto registrando un video voglio fare video su roba un po' più particolare sempre a tema videogiochi però su roba un po' così se vuoi ti regalo la tastiera dei Pokémon ce l'ho a posto ci ho fatto un video Pokémon avventura tre tasti si intendi quella credo non l'ho mai provato l'ho presa in un mercatino quella per il DS dici credo di sì eh sì ci ho fatto voglio tornare a fare video come quello lì pensa così vecchio che non te lo ricorda ma iniziamo insieme così li facciamo anche insieme molto volentieri così dicono che ti copio ma no che è proprio perché se iniziamo insieme almeno non facciamo casino mi dicono che senza di te non conto un cazzo che è verissimo grazie al cuoco per i due mesi cosa dobbiamo fare che mi sono distratto un attimo vorrei giocare a Pikmin adesso non lo so cercavo i soldini come fai a giocare a Pikmin? è un gioco da divano ah sì mi ricordo è un gioco da divano mi metto lì e gioco a Pikmin tra l'altro leggevo un'intervista durante una tavola rotonda c'era mia moto che fa e chissà perché Pikmin vende meno ma fatti rispetto a un Mario o uno Zelda Pikmin insomma non è esattamente dire di nicchia e dire poco anche perché questo è l'ultimo gioco che fa mia moto probabilmente sai? se c'è un ripeto di chi noto no glielo metto ho detto magari riesce è perché il suo è il suo guilty play non guilty pleasure è il suo è il suo bambino gli hanno fatto fare Pikmin 4 e probabilmente dopo si ritirerà anche perché c'è la sua età ha fatto il suo mi sa che già gli ultimi Mario e no Zelda non ci ha più messo mano da un po' ma anche negli ultimi Mario non ci ha più messo mano guarda 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 no ragazzi scusate andiamo a parlare a chi? quella donna voodoo ma l'abbiamo già fatto e no ha detto cioè tornate quando avete finito noi abbiamo finito probabilmente era un modo per ah era una frase sei sicuro di voler andare adesso non l'avevo interpretata così credo non lo so e poi magari no dobbiamo finire qualcosa magari da lei ci sono i soldi più che altro ci servirebbero quelle due quelle otto monete per eh sì per prendere il libro e ci manca solo quello credo sicuro c'è un sacchettino che ci siamo persi da qualche parte no secondo me sono giusti giusti ci mancano proprio otto monetine sai vabbè parlo ancora vediamo che ci dice Kinga che cosa hai fatto su Sea of Thieves? c'hai un dev di Sea of Thieves italiano in chat sub appena subato tra l'altro grazie mille Kinga cosa stai facendo su Sea of Thieves? ah sì possiamo andare avanti ok eh immaginavo dai characters figo io ho un vecchissimo ho il press kit quando ancora Microsoft mi mandava le cose e adesso non contiamo più un cazzo c'era anche tu quel press kit lì mi pare no? io ho il libro sì ma non è la scatola di Sea of Thieves con il teschio? no sicuro? no non solo a me sì non mi è andato niente come da tipo sempre Kinga ci metti una buona parola io sono affiliato di Sea of Thieves non più partner è vero perché non lo streamo abbastanza ma non me la sono presa no non me la sono presa eheh 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 va bene ah ma è proprio finito sai? mi sa che abbiamo finito eheh anche secondo me questo è il la prima eh sì il primo pezzo vabbè 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 facciamo un'ora di pirati ammazza pirati se vuoi pvp brutale no mi sa che vado a mangiare ma va bene giusto va benissimo più che altro vorrei recuperare i soldi il stesso rosico che non possiamo prendere no va rifatto dal inizio Roby grazie per i dieci mesi probabilmente sì se è come l'altro sì no però se ci lascia nell'isola magari no eh vedi? aspetta nooo che palle che palle e niente oh abbiamo ricevuto le statuette io non lo so e tu non hai la caudi gatto aiuto volo la caudi mancante allora io potrei cogliere la palla al balzo e spararmi su pikmin se tu vai a pranzo ma vai beh mangi questo sì ci sta no ma c'è in realtà non è che mangio preso però devo anche preparare come sta andando dimmi questo come sta andando con la dieta e tutto bene siamo andati dal primo dopo il primo mese dalla nutrizionista è andato molto bene ho perso il 5 per cento di grassi e due chili quindi sono io adesso sono già entrato nel peso forma però vorrei sciogliere ancora un po' sì voglio sciogliere ancora un po' e poi regolare regolarizzarmi chiamare un peggiante si va bene ti ringrazio le statue le puoi mettere me le fai vedere sono per la nave diceva sì sì credo non lo so si guarda ma che belle ma bellissimo hai visto la nave ondeggiare così tanto sto vomitando veramente sto vomitando siamo ubriachi molto bello 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 ci vediamo fra 20 giorni per va bene però è stato è stato figo dai è durato è stato carino sì sì è stato c'è non era neanche troppo fastidioso fare l'escape room fondamentalmente no perché siamo andati un po' nel viale dei ricordi secondo me se era una roba nuova ci saremmo un po' cagati il cazzo ho questa impressione qui è possibile è possibile però è durata poco quindi no infatti infatti assolutamente va bene ti ringrazio buon pomeriggio e ci vediamo oggi in live cioè tu fai la live con come vi ricordo il nome viewfinder perfetto buon pikmin grazie ciao io adesso controllo che pikmin sia effettivamente oggi day one che non vorrei far cazzate pikmin 4 fammi vedere sono contento così lo proviamo anche in live certo in un'ora facciamo poco però prova il gioco scarica la demo dettagli 21 sì è oggi è oggi il demo perfetto 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 ok 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 un po' abbiamo mandato la review guide di un gioco però non ho mandato la chiave quindi che me ne faccio bah non lo so non ho idea non ho idea allora che bello che arriva oggi il pokemon sleep perché dormire dormire col telefono sul letto è veramente un'idea del cazzo lo sto facendo per il video è vero però mamma mia che rottura di coglioni lo sto facendo solo per i video eh tra l'altro 70 euro è costato quel cosino lì allora vabbè ve lo faccio vedere a questo punto poi farò anche una una storia guardate qui guardate qui c'è il diorama che adesso costruirò ah portachiavi cazzo quanti portachiavi che belli i kit così grazie nintendo il gioco esplorare il mondo curioso si vabbè dal solito cartoncino dimmi che ho una maglietta dimmi che mi sta a me la cambio subito l allora possiamo possiamo provarci possiamo provarci senta cosa del male 12 come mesi di vita da pirata grazie ci voglio credere vediamo eh che morbida che è ah beh più o meno insomma il bianco magari non è il mio colore ma porca troia chi è? ciao arrivo arrivo subito grazie 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 eccomi qua eccomi qua per la sessantesima volta eh adoro i pacchi di nintendo allora questo l'ho comprato e pagato io no? eccolo qui il pokemon go plus benissimo però mi hanno messo dentro gli adesivi di pikmin che non c'erano non c'erano però nel kit di pikmin quindi in un modo o nell'altro riesco sempre a ricevere gli adesivi nintendo ecco benissimo vabbè e questo non ve lo apro in live perché voglio fare un mini unboxing dopo devo caricare anche la telecamera e vabbè il pokemon go plus 70 euro costa questa roba qua che è pensato per il pokemon go che non gioco da 20 anni però anche per il letto vedi pokemon sleep tra l'altro ho visto che già la gente sta citando su pokemon sleep pensate a cosa serve mentre va in giro premi e catturi pokemon adesso non so come funziona funzionerà come il controller quello di di let's go e credo abbia il giroscopio lo tieni sul letto ve lo dirò magari meglio stasera lo tieni sul letto comunque e ti monitora il sonno darkness 45 ehi gatti hanno un nuovo amico non sono più 44 grazie mille mamma mia che cosa che figo ma questo è un porta è un porta switch o un portagioco no un porta è un porta vabbè ma che figata certo un po' troppo sborone se riesco ad aprirlo cazzo io quando è che lo registro il video ma ce la dovrei fare prima di andare alla psicologa credo che sia pensato per fare questo beh forse forse un po' di da scalica come cosa però molto carina ok molto carina sicuramente poi abbiamo porta chiavi pikmin col dado oh leggermente gommosino che bello con il coso queste cose fra cinque anni costeranno un milione e mezzo e io le sto sbucciando così i collezionisti stanno facendo degli infarti il bottone tu devi essere igor no si pronuncia igor e il frutto allora per chi non conoscesse pikmin che come cazzo che gioco è? come lo descriviamo pikmin? eccolo qua si può accomunare forse solo a Overlord grazie a Altalez 23 mesi di armoniosa compagnia grazie mille grazie anche a Dimez per i 34 mesi un tavolo buono che conosco il proprio cosa mettiamo per le 3400 ragazzi come obiettivo? ecco il pinolino pianino però un platform? eh no non è vero perché allora come funziona pikmin? tu vai in giro e sei un astronauta che finisci in un pianeta alieno nel pianeta alieno trovi questi cosi che sono i pikmin e i pikmin ti ti fanno proprio da minion e più ne hai più puoi fare determinate task grazie Kud per i 5 sub Dimez per i 34 mesi a Wasp per i 16 o 16 no si pronuncia Aigo ah c'è un gioco dentro ed è? uh Advance Wars questa è casa mia entriamo da qualche parte ok fortunatamente ho già la switch attaccata perché appena posso la peli la stacco subito perché stavo giocando ad Animal Crossing ieri Zygel grazie per 57 mesi ma c'è è il 3400 riposati non credo proprio per trovare il bello gonfio? no oh beh ok uno e una due perfetto Giorgio poche cose sono sicure nella vita uno di queste è la resa al balgato grazie mille scrivania è un macello un tavolo buono che conosco il proprietario ma c'è M500 si fattona l'agility camp e non è così comoda la cosa perché se succede qualcosa devo mollare la live e tutto che sarebbe Pokemon Sleep? Pokemon Sleep è un'applicazione per il telefono che ti monitora il sonno Cicciop grazie per i tre mesi più dritto e pieno con le spalle sì questo è vero ah sì mi ricordo guardate anche questi Outpat che sono proprio dritto sono gonfiato un po' il braccio prova Pikmin Gatto Storia no storia 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 vedi via una gran ventura salvando tutti i naufraghi il suo pianeta sconosciuto con l'aiuto dei Pikmin buon giocatore grazie Donatore Anonimo che spero non sia Gabriel per le 7 sub domani mattina darò un copino a lino in live e adesso che cosa mettiamo per le 3.450 certo che ha dato un bel boost comunque il volervi far vedere Together BnB eh mi fa piacere la prima volta che ricevo un boost del genere nelle sub per quanto abbiamo fatto? 200? stasera dovremmo farla la cena fuori solo che non mi ha risposto al ristorante quindi boh lo vedrete mangio lì e poi dopo vengo a casa a farla live Riccardo dai una cospigo a bacio signore Bruckman Weno no è che la gente vuole vedere la parte zozza per quella per quello stasera vado avanti lo vorrei finire stasera i mappe zoro vedi tu praticamente usi i Pikmin per fargli fare delle task non so che genere è è Pikmin ti ricorda Raiman perché ha quell'ambiente un po' colorato dici schiavi tu? genere schiavi tu? vabbè però li sta salvando gestionale eh no 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 è vero è Pikmin su Switch non lo so cos'altro esce oggi com'è il volume? grazie link marco per la sub comunque ho giocato giochi meglio di together bnb per i sub se volete rinnovare eh io ve lo dico il discorso è stato comunque molto interessante ci sono tanti elementi a schermo però la Switch inizia a far vedere i suoi annetti soprattutto sul realistico dopo il video che vi ho fatto con Karima sono più la stessa persona ok posso salire sul cane? ok guarda avanti ZL muoviti e guarda intorno ok perfetto anche la cipolla ha un'aria strana cos'è quella roba lì? poi è un Pikmin Open di solito era 2D Pikmin 2D? non me lo ricordo Pikmin 2D è la prima volta che c'è un ambiente umano in Pikmin è vero però hanno scelto comunque il loro modo di farlo pepus buongiorno dopo mesi di ritorno finalmente laureato grazie mille eh si è sempre stato in terza ok durante un salto puoi iniziare a caricare le forze del cane ok non ho ben capito come funziona devo dirvi cioè devo saltare e poi dopo tenere premuto non saltare ci vuole riprovare si appigliano ok ok la registra la registra la registra comportamento bizzardo quando ho raggiunto quest'aria i Pikmin si sono comportati di buono stato l'opera usciti dalla cipolla sono andati subito a nascondersi come farò a trovare i pezzi della nave senza di loro? devo radunarli tutti ne abbiamo 5 bene e gioco aspetta voglio riprovare a fare quella cosa ah niente se tengo premuto la X lo fa salta e poi dopo carica non è che tieni e poi fai così devi tenere premuto direttamente ok non mi aggiungono comunque si ok 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 starvi qua e qua non è la cosa più pratica del mondo usare questo controllo qui ma vabbè e ci abitua bello come nel senso anale adesso mi penso sempre a mia moto bisogna chiudere gli occhi e buttarsi ha detto l'hai confuso con l'Hemmings l'Hemmings era in 2D sì sì confermo adesso stiamo raccogliendo tutte le creature questo credo faccia male ecco qua ecco qua ah devo colpirlo dove non ci sono le cose spinose perfetto va bene grandi pikmin grandi pikmin che creatura era? guarda la allora io adoro queste cose molto giapponesi queste chicche qui ed è una roba vecchio stile che infatti si vede che è mia moto questa cosa qua l'anima che lascia l'anima che lascia la creatura la adoro come chicca quella cosa lì Luca grazie per i 64 mesi il tatami no scusa il tatami è dove si dorme no è l'anima come si chiama il il bonzo il... come si chiama l'animella tatami non è il letto Tanashi comunque quella cosa lì è una roba che cioè è stata una bella chicchetta si dorme sul futon il tatami che cazzo è? ah il tatami è il pavimento comunque si anche quello vabbè comunque sono piccole chicche giapponesi che che mancano un po' soprattutto oggi che allora io preferisco queste tipi queste cose di folklore giapponese piuttosto che le giapponesate esagerate tipo i capelli sparati e i personaggi tutti danzanti strani ma non solo Gabriele si usano anche come frisbee comunque questo è un ottimo giochino appunto da divano lo metterò lì non lo giocherò non lo giocherò non lo giocherò che dovrà catar loro sarà che è un gioco molto particolare e difficile da proporre secondo me ai giocatori soprattutto quelli più giovani tutti i passeggeri vanno immediatamente la priorità ora di trovare i membri della squadra il soccorso disperso mi devo creare ok quello del tutorial se mi faccio il personaggino ma mi piaceva olimar scusa non lo voglio così grosso lo voglio così questo è un po' addormentato mi rappresenta hai visto gabriel devi salvare olimar mi sa cappelli di merda posso dire sono tutti da donna però non ce n'è uno che mi piaccia uno di questi tutta blu non voglio una ricorrenza nei colori mi piace chiamavi solo gatto siamo amici no come che si cancellano la b buon ruona asimà l'addition asimà asimmi asimà asimà A stasera, Martin Cosa metto le 3450? Non lo so Vabbè, ci penseremo La troppo più adesso Cazzo Questo ambiente è molto migliore Di quello casalingo L'ho Mi hai mandato anche il PNG, Juliet Ho ricevuto un paio di emot Però non ho ancora fatto niente Anche perché devo creare degli spazi Hello, Daniel 4000 ha fatti la barba full Cos'è la barba full? Che mi raso tutto? Beh, per 4000 sub ci potrei anche stare Però siamo ben lontani dall'obiettivo È piccolino Ti ho anche taggato Dove recuperarla Eh, sono stati un paio di giorni Abbastanza impegnativi Non l'ho fatto apposta Ok, ne ho trovato uno Ancora sei soccorritori dispersi Quindi il cane è un soccorritore Che radicione? Ah no, sì, beh, è una radice Ok Sì, ho capito Ho capito Devo tirare questo forse Lo tira? Ah, forte sto cane Cazzo, che bei dettagli comunque Allora, sì, mostra un po' il fianco Rispetto ad altri titoli Non serviva di sicuro l'ombra Della linea così Però è una bella chicca Mi sta piacendo molto Oh, posso dire che visivamente Sembrava molto peggio prima Forse dipende dall'ambiente Adesso con la terra Ecco, adesso vedo le texte del pavimento Ma è la mia nonna, lei Eh, lui Non pensavo che Occi Potesse obbedire a qualcun altro Della nostra capitana Lui è Colin Ho detto le comunicazioni Va bene Fa piacere No, no, recupero Se l'hai mandato come PNG Lo posso recuperare facilmente Non ti preoccupare Sono io Su una nave eravamo in sei Ma dopo esserci Lanciati fuori Abbiamo perso le tracce Di uno degli altri Oh no Mi sto crepando Dal cialdo adesso Pensi che ho tutto Potentissimo Vabbè Intanto manca mezz'ora Dai Uh, lo tablet Va bene È arrivata la parte giapponese Un po' prolissa Sì Sì Va bene Sì Perfetto Ecco la nave Beh, è parcheggiata Parlano troppo Non si può saltare Qualunque altro gioco Avrei saltato facilmente Ah, sì Mi ricordo Ci mando il cane E ci salto sopra Ah, posso Fargli fare la corsa Però Va bene Oh, guarda, guarda Guarda che cosa c'è qui Magari il cane scava No, lo stavo facendo Matthew Siamo a tre Con un numero perfetto La ringrazio per l'intrattenimento E il divertimento che porta Grazie mille Adesso ci infiliamo qua Il compagno è di là Tra l'altro ci stiamo Allampicando Per entrare dentro Questo coso qua Ma avremmo potuto Tranquillamente Entrare dall'altra parte Cioè saltare il coso Guarda Ma saltano in altissimo Potevano fare Ma dai Ma scusa Ah, cazzo Cud Grazie Dopo ci do un occhio C'ho un'afta Qua adesso E una qua Cioè mi stanno uscendo le afte Non so perché Non ho mai sofferto così tanto di afte Red Sherry Grazie per i 16 mesi Mi fa molto piacere Vedere così tanti sub Veramente Grazie belli L'attacca? Sì Ok, fa lui Nooo Ma che tristezza C'è il sottosuolo Come in Zelda Ah, lei è la capitana? Da 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 Grazie a Mimmo Per i due mesi Ah, Barenwise, non ti preoccupare Non devi mica spendere soldi per forza Anzi, ci mancherebbe Se vuoi c'è Amazon Prime Che te lo fa fare gratuitamente Una volta al mese per tutto l'anno Sgappi, grazie per i cinque mesi Le si vuole bene, grazie mille E comunque, se non potete Nessuno vi obbliga a subbarvi Nessuno vi giudica per questo Non sentitevi in difetto Ecco il nostro Kate Salve salve, momentaneamente i trivio sui numeri sono finiti Ci scusiamo per il disagio Dai che ci vediamo l'anno prossimo Se ci sei ancora La sua famiglia è di sicuritore di 99 generazioni Che coglioni Quindi troviamo tutti subito loro No, perché Barenwise? Dai Mi fanno sempre soffrire durante i cambi di stagione Da quando sono piccolo Ma è la prima volta che mi capita a me Un farmaco appena nemmeno da applicare sull'afta Io avevo una cremina Me la so squizzata Ma non è bastato Cosa vuoi dire? A vitamminosi? Mamma mia quanto cazzo parlano Credo che sia perché ho mangiato degli zuccheri Ho mangiato un biscotto l'altra sera Da piccolo mangiava poca frutta No, ne mangio, ne mangio Ok, adesso deve sfondare Ho sbagliato Sei diabetico? No, ma ho familiarità Il mio papà lo è In realtà mi sono fatto controllare l'anno scorso Il mio papà lo è Lei è andata da dermatologo E ha preso un appuntamento per il 17 ottobre Cavacca No, non mangio poco In questo momento sto morendo dal caldo Questa è una roba veramente devastante Oggi sono veramente accaldato Ci sono Niente, si è scollegato il termometro dell'ufficio Non so perché Allora, abbassalo l'aria e basta Non vedo se è giusto Vediamo se Dyson mi dice Quanti gradi ci sono 28 gradi 28 gradi Ole Purtroppo Questi giochi sono meravigliosi Ma veramente tanto? Sì Sì Sono troppo prolissi All'inizio Quindi tu cerchi Tu cerchi di Con tutta la buona volontà Adesso faccio questo Faccio questo Però Cazzo Guarda Ho fatto tre passi Mannaggia Ed è bello I giapponesi Sono troppo prolissi All'inizio Eh, Juliet Boh Riproverò in farmacia Non so Ho il Vea Horis Che non mi sono spruzzato Quindi potrei mettermelo adesso All'inizio Cos'è il bea messia vera? L'ho capito Danny Va bene L'uomo non dà oggetti brillanti Va bene Dai Va bene Trova dell'energia Comunque Sab Stasera Vi arriva in anteprima Il video di martedì Allo vix Allo vix Allo vix Parla Cristalli da estrarre? Vuol dire che si può Tanti auguri H Guarda Uno dei gatti Dell'ale È scappato di casa È stato via Sei mesi Se non sbaglio E l'hanno ritrovato L'ho visto luccicardi Quindi la speranza Può rimanere Ma è un game ball Oh 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 Che bello Sì Che bello Eh i feels Sì Ma l'avevano già fatti vedere Nei trailer Che c'era tanta roba Di quel tipo lì Sì Eh ci sono i pikmin Voglio farlo cadere Così forse Che bello Perché è intuitivo No? Cioè tu pensi Una cosa È vera Vabbè si è acceso Sì Non ha la cassetta Cioè qui I giochi fatti bene Sono intuitivi Ma non banali Cos'è mandagli cane? Ah il cane ha valore 3 Ci sono dei pikmin allora Eccolo qua Ma è un peperikmin Ah no è una cipolla E ce ne sono tre dentro Perfetto Me lo sta portando? Il fatto è che poi viene classificato Come gioco per me Tutti i giochi nintendo Vengono classificati I giochi per bambini Perché lo sono Ci sono giochi Per tutte le età Quindi Dai bambini in su A me la fastidiosa cosa Vabbè ma Chi dice che i giochi nintendo Sono per bambini Non li ha giocati Perché vabbè Non ci sono smembramenti E altro Ma a livello di Level design E game design In generale Cioè Tanta roba Tantissima roba Non gli si può dire Assolutamente nulla Sotto quel punto di vista lì Cioè per me il gioco Più da bambini Che ha fatto nintendo Ultimamente Zella Perché ha semplificato Anche di molto Le cose Bene E adesso il pikmin Lo posso lanciare Lì Guarda qua E me ne chiaraga fuori Un altro Perché due Era da uno Era Non l'ho capita Questa cosa Già finito Si of this Uno la famore Si T'altro Se è andata via tu Mi è arrivato un pacco Mi sono seduto E ne è arrivato un altro Questa è la flor Ah perché brilla Ok Zero di 300 Ok perfetto Bene Vedi Perché è chiarissimo Il problema Della parte dei bambini Che sono prolissi In questo caso Ma perché i giapponesi In generale Sono prolissi sempre Scemo Frappapina Grazie per i cinque mesi E Dugodib Siamo giocati Precedentissimi Ah si Assolutamente Al massimo Come al solito Non coglierai qualcosina Ma Mi pare anche Che si siano pure Solegati dal capitano Olimar Che è quello che Controllavi Quindi figura No no Vai Vai Non ho ben capito Come passare Ah Con la R Si passa dal cane I pikmin Perfetto Perfetto Ok Ottimo Mamma mia Che bello Anche i menu Le cose Tutto fatto bene Tutto comodo Mi sento a casa Riusciremo a prendere questo Ne servono Cinque Che bella parola Prolisso Lo è Tutto comodo Riusciremo a prendere questo il doppiaggio che bello il Game Boy Advance SP era più figo allora quello mi ha dato molti ricordi perché alla fine è quello che ho usato anche di più in epoca moderna per via dello schermo migliore della luminosità però era più accattivante l'originale da cui hanno poi palesamente copiato la PSP special sai che non mi ricordo non so per cosa stia SP special project ma così banale allora mi fermo qua adesso perché voglio voglio aprire questo e registrare il video e mi organizzo un attimino per il pomeriggio lungo che mi aspetta questo Pikmin me lo voglio giocare Pikmin me lo voglio proprio giocare non lo farò in live non credo sia un gioco da live ma sarà sicuramente un gioco che vorrò giocare per i fatti miei è proprio una roba che adesso mi butterò sul divano a giocare perché ho comprato un altro gioco che purtroppo non va bene né per il divano né per le live ma ne parliamo domenica la moca bene bene però qui nel momento clou e vabbè dopo me la scollego e tutto me la rendo portatile ragazzi ragazzi è stato è stato bello abbiamo fatto anche un cambio di gioco a metà veramente veramente una bella mattinata vado che ho un bel po' di roba da fare vi radio video di termofischioni e vi auguro un buon pranzo ci vediamo stasera dovrei andare al ristorante dopo il telefono vedo se si può fare ed eventualmente stasera alle 8 e termine